bentornati buongiorno a tutti voi in questo video vedremo il microscopio stereoscopico è un microscopio adatto per osservare oggetti con una profondità con uno spessore è usato per minerali per vedere tessuti per vedere fibre è usato dagli odontotecnici in elettronica in questo video ve lo proponiamo per la numismatica per osservare monete anche per chi deve fare delle perizie deve controllarle vederle bene il microscopio stereoscopico è perfetto per questo lavoro è presente di luce c'è la luce che illumina l'oggetto dal sopra la luce incidente e l'oggetto può essere manipolato mentre si osserva quindi un microscopio da lavoro microscopio stereoscopico è anche chiamato ingranditore anche se non è un modo corretto di indicare questo microscopio ci si avvicina con gli occhi sugli oculari si osserva si può manipolare l'oggetto che si osserva grazie per averci seguito buongiorno